Attenti ad Alberum, se ci sono altre entità rinforzerà il loro potere fino al massimo facendoli diventare dei veri mostri, degli dèi scesi in terra Capitolo 1, l'altare di Herobrine Siamo in un mondo un po' particolare perché questo sì c'è Alberum qui in questo mondo ma se vedete ci sono anche delle casucce un po' strane che abbiamo trovato lì E io ho paura Eli Anche io sai? Eh guarda è stato un po' complicato entrare in questo mondo ma finalmente ce l'abbiamo fatta Direi sai ci abbiamo scelerato non sai quanto Allora qui però c'è qualcosa che mi sembra un po' strano perché queste costruzioni se vedi non sono fatte da qualcuno nello specifico Cioè sono praticamente generate automaticamente magari c'è tipo un'intelligenza artificiale un qualcuno Eh direi di sì direi di esplorare no? Vieni qua tieni delle torce Grazie molto gentile Teniamole in mano perché peraltro fanno pure una luce blu molto particolare il che è strano Guardate qua invece è strano perché c'è dell'acqua qua C'è dell'acqua a caso? Non ho capito come mai E poi sì sembra che qualcuno ci viva praticamente Qua ci sono i divani con l'acqua Ma tu dici che anche Sai che nell'altro mondo c'è quella creatura con quel corno no? Sì Può essere che anche qui visto che c'è Alberum Eh probabilmente sì Qua abbiamo salvato forse un waypoint Qua qualcuno ci teneva probabilmente un prigioniero qui dentro o qualcosa del genere Vabbè allora e qua peraltro c'è una cucina e con tutte delle cose qua No non è vero non c'è niente nelle casse Non c'è niente Sembra che tipo abbiano razziato tutto quanto Security offline Questo mi sembra un tipo un computer strano Infatti si chiama Cos'è stato? Cos'era? Oh mio dio Mi sto spaventando Aiuto Eh cosa dobbiamo fare? Dimmi tu Eh non lo so Tranne che probabilmente qui da qualche parte Non so io entrerei qui dentro Ho paura Cos'hai fatto? Mi hai spinto tu? No Ma chi è stato a spingermi? Andiamo Guarda qua Siamo in un posto veramente pericoloso Vuoi per caso morirci? No no assolutamente E' l'unica cosa L'ultima cosa che vorrei fare in questo mondo Eh però è strano qua eh Perché What? Ma è Ah Aia Ma è strano Allora Parte il fuoco bisogna Però scusami questa non è acqua normale Non mi spegne Non mi spegne Certo se mi fai dire Non è acqua normale questa cosa comunque eh No Eh eh Vabbè allora Vieni con me forza C'è una torcia peraltro in aria Vieni qua Una torcia in aria? Eh mi sembra tipo una torcia di Dreadstone Che non so che cazzo Piterina è la Dreadstone Mi sto preoccupando Che cos'è la Dreadstone? Non lo so Questa è una torcia dell'anima Quella classica E lì cos'era? No 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 Cos'è? No non dobbiamo avvicinarci qua Anche se Io ho fame Cioè devi darmi da mangiare In più mi sto mettendo paura Non abbiamo niente da mangiare Vieni Smetti di pensare al cibo sai Vieni Andiamo forza Ho due cuori guarda Bene Mi fa piacere Non mi interessa comunque Arte torce volanti Eh Non importa Andiamo avanti E qui C'è qualcosa di oro Con Una Oddio Tunis Sai cos'è? È l'altare di Erobrine Mi sa Esatto Allora Bisogna mettere in teoria Queste cose qua Allora ragazzi So che voi Dite ma perché lo stai spawnando Perché vorrei capire Se c'è Erobrine Veramente in sto mondo E perché comunque Siamo qui Cioè cosa facciamo? Non spawniamo Erobrine Certo che lo spawniamo Ah Eh mi sa che ha funzionato Cioè questa cosa Che mi fa dire ha funzionato Tu dici? Eh Adesso Adesso io me ne andrei Va bene? Andiamocene via Dai Su Dai Andiamocene via Dai Io me ne volevo scappare Purtroppo siamo stati sprovveduti Non dovevamo accendere Quell'altare Di lì a poco Le cose brutte Sarebbero iniziate A succedere Prendo questo cibo Che ho preso qui Allora Perché comunque Stavamo perdendo Un sacco di vita E qui abbiamo Un'altra parte E peraltro quindi Adesso dobbiamo stare Attentissimi Perché Erobrine È nel mondo Eli Sì Mi sto cagando Adesso aiuto Vieni Vieni Dove sei? Dai su Eccoti Non dobbiamo perdere L'attenzione Perché qui Siamo veramente In pericolo Pericolo Tantissimo Forte Forte Ma che cacchio Perché il pc È girato da questa parte? Non lo so Erobrine Sei stato tu? No fermo Ho capito tutto Praticamente Sai che questo è legno Vedi? Sì Eh guarda Capito? Lo stava usando Lo stava usando Alberum Capito? Ah ho capito Ora capisco Eh mannaggia Questo coso tutto d'oro? Questo coso tutto d'oro? Non so che cos'è Wow Sembra tipo Una stanza veramente ricca E Questo sembra tipo Un altare Con delle Hai preso qualcosa? Allora qui Mi sembra che ci sia La Una croce Il che è abbastanza inquietante Perché in un mondo maledetto Sappiamo come le croci Dai c'è C'è Erobrine Cavoli Eh Poi la cosa che dà fastidio È che non c'è niente Nelle ceste Quindi probabilmente Hanno rubato tutto Probabilmente O hanno preso Cioè qualcuno che abitava In questa casa Se n'era scappato completamente Direi di sì Non so cosa faremo adesso Io ho sempre più paura Adesso dobbiamo sopravvivere Ad Erobrine Perché ricordiamoci Sta nel mondo Allora io ho sempre più paura So che mi sto ripetendo Ma Io entro in panico adesso 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 tu stai calmo Perché mi sembri Fin troppo agitato Ok resta calmo E non impazzire Anche perché Qui mi sa che c'è qualcos'altro Appunto Andiamo Ovviamente tu Vorrei andare a vedere Vero? Ovviamente Me lo chiedi pure Eh certo Ti pareva Dai su E' bellissimo Cosa? Mi ha spuntato un fungo Un fungo? Che cos'è? Questo cos'è? Oh cos'è? Che spavento Oh E quella cassa non l'hai messa Oh Questo fa Oddio Cosa sta facendo? Perché sta Cosa sta facendo? Perché sta attraversando Attraverso il muro? Oh mio dio Questo mondo E lì è veramente maledetto Io non ti consiglio mai Di entrare da solo Anche perché purtroppo Mi sa che C'è Erobrine qui dentro Eh non Adesso cosa facciamo? Capitolo 2 La raccolta dei materiali Provate ad andare in miniera A vedere se arriva Erobrine A sto punto Ma si andiamo Prendiamo Da solo mi mandi? No Prendiamo del Della pietra Perché dobbiamo continuare Esatto Allora Bisogna trovare una cavernina piccolina Così almeno riusciamo direttamente A prendere le cose Ci siamo messi in viaggio Per trovare i primi materiali Che ci sarebbero serviti Per difenderci Da Erobrine Perché una minaccia Era presente nel mondo Siamo in caverna Inizia a prendere un po' di pietra Va bene Prendo un po' di pietra Vedo anche se c'è del carbone Più su Sì Sì vedi se c'è del carbone Se c'è del ferro Ovviamente Io adesso mi crafterò Immediatamente Un piccone in pietra Ma magari anche una spada In pietra Così almeno Siamo anche Ecco se riusci La potresti fare anche per me Che io ho finito la pietra Ora non ne raccolgo altra No Te la fai da solo Maiale E comunque Ma scusa un attimo A parte che io non è che sto qua A raccogliere la pietra Quindi devi fare immediatamente Ma posso dire che fa proprio fastidio Il fatto che ci siano In mezzo alle scatole Ragazzi queste cose qua Io non so che moda è questa Però dà veramente fastidio Oddio Direi di sì Che cos'è Ma è una mucca È una mucca indemoniata In che sé Aspetta un attimo Cosa stai dicendo È una mucca con gli occhi bianchi Ma perché c'è una mucca che ti insegue Scusami È una mucca con gli occhi bianchi Sì Oh mio dio Ma peraltro ti insegue Scusami Ti sta facendo danno Ah Aia No 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 Brutto 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 Che cos'è Questa è Mi sa che è la mucca di E È Erobrine Sì direi di sì Penso che Visto che c'è anche Erobrine Penso che Erobrine non Non infetti solo noi Ma anche i mob Eh mi sa Mio dio Quindi ci potrebbe essere anche i polli I polli indemoniati Cose Ma tu dici che è stato Alberum A mettere dentro Questo mondo Erobrine Non lo so Potrebbe essere Qualsiasi cosa Allora Continuiamo ad andare in caverna Perché qua La caverna continua Vieni con me E Oddio Attento a non cadere nella lava Aspetta che Eh sì Inchiudo direttamente Perché sennò qua Potrebbe essere un rischio Eh sì Potrebbe essere Cosa c'è qua sotto Eh stiamo Stavo dicendo Stiamo attenti perché Io Un carbone Vedo delle cose Ok prendi il carbone Però io sto parlando di una cosa Importante Non è che mi devi interrompere Dicendo una stupidaggine Tipo carbone Ok Eh Che cacchio è Cioè scusami Cioè stavo dicendo Una cosa molto importante Come quella che ci potrebbe essere Erobrine A te sembra che non interessi Chiedo umilmente scusa A te e anche ai ragazzi a casa Bella madonna Vabbè adesso mica Hai fatto un peccato capitale Allora Erobrine ragazzi È un po' Eroino Nel senso Fa Praticamente No La mucca di nuovo Ma basta Perché ci inseguono Le mucche di eroino Eh eroino È molto Dispettoso Magari è quello Eh Ma tu Ma ti sembra che puoi dire Che eroino è dispettoso Ma cos'è un bambino Per caso Eh non lo so Può essere qualsiasi cosa Erobrine Non l'ho mai visto È una cosa veramente pericolosa Ma la smetti Tu l'hai mai visto Erobrine Eh certo L'ho visto tantissime volte Figurati Eh io no Non l'hai mai visto Erobrine E qua adesso che lo vedrai Scusa Ti sembra normale che una mucca Ti attacchi Una mucca con gli occhi bianchi No Ho visto varie cose Riguardanti Erobrine Ma non Stai zitto Stai zitto Ragazzi questo chiama dispettoso Erobrine Ma ci rendiamo conto Di che In che mondo siamo finiti Uno che chiama dispettoso Erobrine Dovrei Non dovrebbe nemmeno poter giocare a Minecraft Dispettoso Che fa Cioè È un mostro Orribile Completamente Cioè tu non sai la gravità della situazione Nella quale ci troviamo Non hai ben capito E me ne accorgerò presto immagino Eh sì Te ne accorgerai ben presto Per carità Mio dio Cioè Dispettoso Dai Adesso Io spero che adesso Arrivi Erobrine E ti faccia vedere quanto è dispettoso Ok Va bene Ok Allora vieni con me Andiamocene in quella casa lì Perché è l'unico modo Che abbia L'unica casa che abbiamo Peraltro Qui Sembra che sia Peraltro Scusami un attimo Ma dove sono finiti tutti i mob Ma ci saranno dei letti Secondo te Perché io voglio Voglio che diventi giorno Mica possiamo stare sempre di notte Eh vedi Infatti Questa cosa è anche strana in effetti Perché non diventa giorno Beh Non lo so Potrebbe essere Erobrine che condiziona il tempo Quindi hai capito che Erobrine che condiziona il tempo Spona mucche con gli occhi bianchi Quindi che sembrano fatte Eroino No insomma E quindi No mi sa che forse Non dovevo dire queste cose E fin troppo Ma perché Aia Eccoci cos'è stato Ecco vedi Vedi Mi sa che ero per il mio impunito Vedi Aia Fatto male Adesso Stai continuando a farlo stupido? No 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 Sto pensando che sto soffrendo adesso Vieni con me Tu non hai capito Entriamo in casa Vieni con me Ragazzi Mi sa che è irrecuperabile Cioè tu non puoi Non puoi stare Non possiamo stare in sta casa Ma che cos'è? La casa è possessata Aiuto Corri Corri Prova di nuovo a chiamarlo dispettoso Erobrine Prova di nuovo a chiamarlo dispettoso Dai abbi il coraggio Erobrine Erobrine Signore oscuro Scusi E Alberum peraltro E ci stanno inseguendo delle madonne Guarda qua Ci sono dei fantasmi che ci inseguono Mio Dio Stanno inseguendo solo te Eh ho capito Ho capito Mi sta facendo male Sto per morire Sto per morire Rega Cosa faccio? Cosa faccio? Come si scacciano dei fantasmi? Allora ci siamo liberati da quelle carogne Finalmente direi no? Sì guarda Vieni con me Allora Vedi che questo mondo non è Proprio pensato per essere Giocoso e simpatico Te ne rendi conto ora? Sì me ne rendo conto Ma questo blocco cos'è? Non me ne frega Vieni con me Non concentrati su cose di cui Veramente non c'entrano niente Ma sei sicuro di voler rientrare qui? Allora io ti do uno Sì perché questa potrebbe essere la nostra casa Se troviamo un modo per scacciare i fantasmi Magari E dobbiamo togliere pure questa Ma scusami un attimo Non è normale Perché tutte le cose sono rivolte verso Questa parte Ma che cacchio vuol dire? No Ragazzi C'è Chi è questo? Che cosa? Ho i occhi bianchi Ho i occhi bianchi Ma è lui secondo te? E lì sì Guarda 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 Cosa sta facendo? Dove sta andando? Non lo so Non lo so Vuoi seguirlo? Eh non so se Perché potrebbe essere pericoloso Che cosa sta facendo in sto mondo raga? Cioè ok che l'abbiamo sponato noi ma Cosa? No raga ma inquietantissimo Perché si muove così? Ma sai qual è la cosa un po' più strana? Eh È che non ci attacca Non dovrebbe attaccarci tipo Non lo so Eh no ma Di solito Aerobrine Prima di attaccare Ci studia bene il suo avversario In questo caso siamo noi Cioè ci spia praticamente Ci spia Da lontano Infatti è andato fra gli alberi Peraltro chissà come mai è andato da Alberum Chissà come mai Eh chissà come mai Magari hanno una relazione Non so Un legame in comune sicuramente Ce l'hanno Esatto Eh ragazzi Vedete questo È un mondo che veramente Mi fa ancora più inquietudine Eh io Non so come Ma mi sto trattenendo Dal Del Del pisciarmi addosso Ma che schifo Senti Entriamo qui dentro Non entriamo in sta stanza Per carità Perché è pericolosa Ok quindi Questa è una stanza Che dovrebbe essere off limits Quindi facciamo così Così almeno sappiamo Che non dobbiamo entrarci Capitolo 3 La maledizione dell'acqua In realtà qua Non sembrano esserci fantasmi Vedi c'è pure una cucina Magari ci potremmo mettere Delle cose Anche il frigorifero aperto Cioè Madonna è bello Sì C'è un po' di tutto Ecco Dovremmo sistemare l'acqua Perché io non ho capito Perché c'è dell'acqua Qui in mezzo alle scato Non lo so neanch'io Fra tutte le sedie Boh Non ho capito Però potrebbe essere Una nostra casa Ma Ma allora mi prendi in giro Cosa hai fatto Guarda Cosa hai fatto Niente Niente di che Hai spaccato una sedia Hai distrutto tutto Ti sembra normale questa cosa Ma non è possibile raga Com'è possibile sta cosa Però seriamente Cos'è ci sono le perdite d'acqua Come vedete Qui è successo qualcosa Inizialmente Non avevamo capito Però ora che ci penso Soprattutto adesso Che ve lo sto raccontando Potrebbe essere Una maledizione questa Non un semplice bug Forse l'acqua È stata messa lì Da qualcuno Ma noi a questo Non avevamo pensato Vorrei fare un'ascia Così almeno ragazzi Facciamo direttamente E siamo attenti Sempre ad Aerobrine Ricordiamoci che Aerobrine È qui nel mondo Sì Ricordiamoci sempre Che potrebbe Prenderci in agguato Da un momento all'altro Anche adesso Eh sì 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 Anche perché potrebbe Spiarci da qua fuori le finestre Allora Distruggiamo tutti i tavoli E poi li rimettiamo Ok Va bene E poi adesso Mettiamo della pietra qui Vabbè Anche il legno andrebbe bene Ma mettiamo la pietra Così Perfetto Perfetto Ok In teoria adesso Dovrebbe Eh Inzomma Inzomma Bisogna anche qua fare le cose Vedi Mio dio però Com'è possibile sta storia raga Però vedete Adesso si è tolta un pochino Più o meno Eh piano piano Sì Dobbiamo Tipo riempire tutta la stanza di pietra Per togliere tutta la roba qua Però È abbastanza pericolosa Il materiale è questo Secondo te Non lo so Provava Cos'è che ti dice Conotron Che cos'è Conotron Scusami eh Contron si chiama Eh non Non conosco Tieni Vabbè Non so se serve a qualcosa Magari servirà più avanti Chi lo sa Però forse Eh appunto Ora magari ha finito Ti prego dimmi che ha finito Perché se no veramente Non so che dire No raga C'è assurdo Non finisce mai Bisogna mettere l'altra No vabbè Ma basta Per favore Cos'è Oh forse abbiamo finito Abbiamo finito Quasi Quasi Eh ma questa acqua ha distrutto tutto Ok Non ho più i blocchi Eh tranquillo ce l'ho io Perfetto abbiamo finito Ok Allora Rimuoviamo tutte queste cose Inizia a togliere la pietra Tutto quanto Mio dio raga Adesso poi rimetteremo tutti i tavoli Ma com'è possibile Ma com'è possibile che c'erano tutta Tutta quell'acqua lì Scusa Prende da un altro lato Scusami Se no mi dai le botte Eh sì Allora Adesso togliamo tutte queste cose E risistemiamo un attimo Questo posto Aerobrine Io cercherò di spiarlo Da qua fuori Cioè adesso spiarlo È un parolone Qua tieni tutte queste cose Perché Mi dice Mi fa vedere le cose Sullo schermo Quindi Io stavo cercando di vedere Da queste parti qua Però non mi sembra Che ci sia C'è Alberum sicuramente Che ci spia da lontano Questo è abbastanza chiaro Beh Io ho già paura di Alberum Poi c'è anche Aerobrine Ma cosa Madonna Non so Cosa più fare Vabbè ragazzi Nel prossimo episodio Completeremo queste cose Sicuramente Nel caso vi piaccia questo mondo Lasciate like Iscrivetevi E soprattutto Stiamo attenti ad Aerobrine E ad Alberum Insieme Perché insieme Fanno una combo Che è veramente spaventosa Eh appunto Che è stato Grazie a tutti.